una cosa ho chiesto al signore abitare nella sua casa il signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò timore il signore difesa della mia vita di chi avrò paura una cosa ho chiesto al signore questa sola io cerco abitare nella casa del signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del signore e ammirare il suo santuario sono certo di contemplare la bontà del signore nella terra dei viventi spera nel signore sii forte si rinsaldi il tuo cuore e spera nel signore grazie